Dopo le elezioni europee si apre a Bruxelles il toto nomine per i posti chiave dell'Unione. Le cinque cariche più influenti dell'Unione Europea sono sempre il risultato di intensi negoziati da parte dei blocchi di potere rivali. Possono volerci settimane per concordare i nomi, di solito richiedono accordi e compromessi trasversali. Probabilmente il ruolo più ambito è quello del presidente della Commissione Europea, attualmente ricoperto da Juncker. La Commissione è il ramo esecutivo dell'Unione Europea. Il suo presidente guida un gabinetto di commissari denominato Collegio, che è responsabile davanti al Parlamento Europeo. Il Parlamento Europeo a sua volta è guidato da un presidente, carica ora ricoperta da Antonio Tajani, che sovrintende i dibattiti e le attività del Parlamento e rappresenta il Parlamento all'interno dell'Unione Europea. Firma le leggi e i bilanci dell'Unione Europea. Il Consiglio Europeo è invece la base del potere dei governi degli Stati membri. Suo attuale presidente, Donald Tusk, è il principale rappresentante dell'Unione Europea sulla scena mondiale e ne indica la direzione politica. Una nomina sempre più rilevante è quella del presidente della Banca Centrale Europea, che è responsabile della gestione dell'euro e della politica monetaria nella zona euro. Mario Draghi è l'attuale presidente, dirige il Comitato Esecutivo, il Consiglio Direttivo e il Consiglio Generale della Banca Centrale Europea. L'unico incarico attualmente ricoperto da una donna e del quale avverrà la nuova nomina è quello dell'alto rappresentante degli affari esteri. Oggi alla guida c'è Federica Mogherini, ed è la coordinatrice principale della politica estera e della sicurezza comune sulla scena mondiale. Nel tempo l'accordo per queste nomine si è rivelato un solido lavoro diplomatico sempre di più tra le istituzioni dell'Unione Europea. Mentre il Parlamento Europeo alla fine deve confermare il presidente della Commissione Europea, è il Consiglio Europeo che propone. E nel Consiglio stesso le maggioranze sono molto diverse rispetto al Parlamento Europeo. Quindi credo che dobbiamo prima vedere cosa deciderà il Consiglio Europeo, dove le decisioni da prendere sono diverse, visto che devono anche convergere sul nome della Banca Centrale Europea e su quello dello stesso Consiglio Europeo. Tutte queste attività proseguono dietro le quinte, al di là della portata di coloro che hanno effettivamente votato per il nuovo Parlamento. I cittadini dell'Unione Europea, tramite il loro voto, affidano ai loro rappresentanti il compito di assegnare gli incarichi più rilevanti in Europa. Grazie.